Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero bene. Nel video di oggi andremo a parlare di un argomento molto interessante, però prima di questo fatemi ringraziare tutti quanti voi perché finalmente siamo arrivati all'obiettivo dei 2000 iscritti. So che è un piccolo obiettivo, ma io sono molto grato a tutti quanti voi di questo traguardo che abbiamo raggiunto insieme, quindi grazie veramente. L'argomento di oggi, comunque sia, del video di oggi di cui appunto vi andrò a parlare e di cui tra l'altro vi avevo promesso perché sarebbe stato un argomento molto interessante che alcuni di voi effettivamente mi hanno chiesto e che riguarda e che mi interessa a me in prima persona è il metaverso. Perché andiamo a parlare di metaverso? Nel senso, comunque sia, sono successe diverse cose in questo periodo. Quali sono le vicissitudini, non così le notizie che si sono susseguite e che hanno portato questo nome, questo argomento, sulla bocca di tutti? Innanzitutto partiamo da Facebook. Facebook infatti ha rebrandizzato il suo nome. Per chi non lo sapesse, ma penso che sia una notizia che ormai sanno anche i muri, è che fondamentalmente la società Facebook, quindi non il social, ha cambiato nome. Infatti non si chiamerà più Facebook, ma si chiama Meta. Questo è un grosso passo per quanto riguarda appunto la società perché sta delineando sempre di più quello che è il loro obiettivo a lungo termine. Generalmente, anzi generalmente, nella sua intervista Mark Zuckerberg ha parlato di una visione a 10 anni. Quindi lui da qui a 10 anni impegnerà gran parte, comunque sia, delle sue risorse, delle sue possibilità nel costruire e nel avanzare in questo mondo che è appunto il metaverso. Ma sono sicuro che alcuni di voi si stanno domandando che cos'è il metaverso. Bene, comunque sia, ve lo spiego in maniera molto rapida e facile con questo video. che ho preso dalla TikTok. Il metaverso è un'espansione virtuale del mondo reale, dove viviamo, interagiamo attraverso un avatar e tramite dispositivi tecnologici indossabili, come ad esempio gli smart glasses con cui Facebook ha fatto una collaborazione con Ray-Ban, o i visori come Oculus. Possibilità anche di poter avere guanti indossabili e tute indossabili che ci fanno sentire e percepire quello che noi percepiamo e sentiamo, anzi quello che il nostro avatar percepisce e sente nel mondo virtuale. Infatti è un mondo digitale dove la realtà virtuale è profondamente connessa al web e in cui le persone possono vivere una vita parallela a quella del mondo reale. Quante volte avete sperato, comunque sia, pensato di poter tornare magari bambini, se siamo comunque sia adulti, o comunque sia abbiamo pensato di poter vivere, poter guidare, poter magari andare in qualsiasi parte del mondo o addirittura esplorare universi ad oggi sconosciuti. Bene, sul metaverso in teoria e anche in pratica tutto questo è possibile. Ad oggi ovviamente no, ci sono delle limitazioni, delle cose, perché è un mondo che si sta ancora costruendo, però ci sono già delle realtà sul web, come ad esempio The Central Land o Sandbox, che stanno già da tempo, comunque sia, costruendo infrastruttura a stile metaverso in cui le persone, comunque sia, stanno entrando e in questo periodo, appunto, dopo il rebranding di Facebook, è scoppiato l'hype nei confronti di queste piattaforme. Diciamo che se si parla di metaverso, c'è più facile, comunque sia, per chi è appassionato anche di cinema, pensare ad esempio a un Ready Player One o per chi è amante degli anime, pensare a uno Sword Art Online. Bene, questo qua fondamentalmente è tutto vero ed è tutto possibile. Infatti, in un metaverso, comunque sia, tutto quello che noi possiamo, fondamentalmente immaginare, sarebbe realmente fattibile. Ma nel video di oggi, ovviamente, oltre a parlarvi della bella favoletta e del racconto di che cos'è il metaverso, voglio parlarvi più nello specifico di, appunto, The Central Land e Sandbox. Questo perché? Perché ultimamente tantissime persone sul web stanno iniziando a sparare nomi, stanno iniziando a sparare una crisi a criptovalute che effettivamente, e questo è vero, che potrebbero veramente subire un'impennata pazzesca dovuta, appunto, a questa corsa, a questo fomento, a questo hype del metaverso. Senza, ovviamente, pensare che non è che domani, o tra un mese, o tra un anno potrà succedere tutto quanto questo. Sicuramente avremo dei grandi passi avanti in questo periodo, ma il completamento e la riuscita completa del metaverso l'avremo forse soltanto tra dieci anni, se non addirittura di più. Spero ovviamente di meno io, perché mi interessa particolarmente, però sono quasi sicuro che il passo finale lo avremo comunque sia tra diversi anni. Comunque, per poter analizzare un po' tutto quanto quello che riguarda Decentraland e Sandbox, io ti direi di spostarci sul computer, su CoinMarketCap, e vedere un attimino appunto che cosa sono e come funzionano. Faremo ovviamente prima Decentraland e poi Sandbox. Cercheremo di non mischiarli, per potervi appunto spiegare bene come funzionano e che cosa sono. Molto bene, eccoci qui, siamo sul computer. Vediamo subito, che ci balza all'occhio, comunque sia Decentraland che è cresciuta veramente tanto. In che modo ovviamente ce ne possiamo accorgere? Dal grafico. Vediamo che Decentraland ha avuto dei picchi in passato intorno a 1,4-1,5, ma mai, ed effettivamente mai, ha raggiunto i 3 dollari e passa. In questo momento è scambiabile con il dollaro a 3,50 e potrebbe effettivamente salire e continuare a crescere. Questo perché, ovviamente come ho già spiegato, l'hype creato dopo il rebranding da parte di Facebook, ma anche creato nei confronti di questo metaverso, sta portando tutte quante queste realtà, tutte quante queste piattaforme, ad acquisire un valore veramente grande. Ma andiamo a spiegare con calma appunto che cos'è Decentraland e come funziona. Decentraland si definisce infatti una piattaforma di realtà virtuale alimentata da una blockchain di Ethereum. Infatti è basata ed è costruita sulla blockchain di Ethereum, che consente agli utenti di poter creare, sperimentare, monetizzare i propri contenuti e applicazioni. In questo mondo virtuale gli utenti acquisiscono appezzamenti di terreno che possono successivamente navigare, costruire e monetizzare. Tra le altre cose, non so se vi ricordate, all'inizio del mio canale avevo iniziato, diciamo, tra virgolette, con Earth 2. Earth 2, diciamo, dovrebbe essere un metaverso, un multiverso, di realtà, diciamo, virtuale aumentata per quello che riguarda la Terra. Magari grazie a questo potrò riuscire a portare qualche altro aggiornamento, sempre se, ovviamente, il progetto continua ad andare avanti e magari rilasciano aggiornamenti, perché, diciamo, siamo in un momento un pochettino di stallo su quel fronte. Però, magari, più avanti potrebbe succedere che riesca a riportare qualche video, qualche argomento in merito. Decentraland, tra altre cose, utilizza due tipi di token. Mana, che sarebbe appunto questo qua, che stiamo in questo momento vedendo e analizzando sul grafico, e il secondo token, invece, che è l'end. L'end si ottiene bruciando mana, quindi non si può acquistare, ma lo devi avere se bruci i mana. I token mana possono essere utilizzati per pagare una gamma di avatar, quindi un personaggio virtuale che puoi avere su questa piattaforma, dispositivi indossabili, nomi e altri ancora appunto sul mercato di Decentraland. Questo di base è appunto che cos'è e come funziona Decentraland. Quindi è un mondo virtuale dove tu puoi impersonificare un avatar, dove puoi costruirtelo, puoi essere qualsiasi persona, e comprare dei pezzamenti di terra sopra i quali potrai costruire e fare qualsiasi cosa. Anche qui siamo ovviamente in fase di sviluppo e pian piano aumenterà. Per quanto riguarda invece Sandbox, eccoci qui, anche qui ci balza subito all'occhio la grande e forte crescita che ha avuto nell'ultimo anno Sandbox, sicuramente leggermente di più rispetto al fratello, sorella, nemico, rivale, quello che sia di Mana, però vediamo che il prezzo è leggermente più basso. Infatti Sandbox si scambia rispetto al dollaro a 2,24$. Questo perché? Perché Sandbox, diciamo rispetto a Mana, è leggermente diverso. Non si basa su dei token, ma si basa comunque sia sugli NFT. Quindi andiamo attimino a vedere appunto che cos'è e come funziona. Sandbox è un progetto che è stato lanciato nel 2011. È un mondo virtuale basato anch'esso su blockchain che consente agli utenti di poter creare, costruire, acquistare e vendere risorse digitali sotto forma di gioco, combinando i poteri delle organizzazioni autonome decentralizzate, ad esempio DAO, di cui tra l'altro vi ho già parlato in un recente video, ed i token non fungible, quindi gli NFT. Sandbox crea una piattaforma decentralizzata per una fiorente comunità di gioco. Fondamentalmente però che cos'è che rende unico Sandbox? Sandbox è una piattaforma unica perché introduce la tecnologia blockchain nel mondo dei giochi. Ne abbiamo parlato in qualche video, non in maniera ovviamente approfondita, però ci sono effettivamente diverse piattaforme che in questo momento qua stanno sfruttando la tecnologia blockchain da unire al mondo dei videogiochi che è in forte anch'esso, forte esplosione e in forte crescita da ormai diversi anni, tant'è che quest'anno ha addirittura superato il fatturato totale dell'anno di cinema e musica messe insieme. Infatti, l'industria dei giochi è un enorme mercato non sfruttato quando si tratta dell'adozione della tecnologia blockchain. Pixwall, che serve appunto chi ha creato The Sandbox, ha visto questo potenziale nel 2011, creando un universo in cui i giocatori possono creare e raccogliere risorse e basare su blockchain. Sandbox mira a rivoluzionare infatti questo mercato, si crea una nicchia nel mercato globale dei giochi. Diciamo che in un portafoglio cripto, oggi come oggi, ma già da qualche tempo, sicuramente è necessario e sarebbe anche buono avere una parte di Sandbox e una parte di mana The Sandbox. Bene ragazzi, fondamentalmente il video finisce qui. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito fino alla fine. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di tutto quanto questo sotto nei commenti e soprattutto se possedete all'interno del vostro portafoglio The Sandbox o comunque sia Sandbox. Mi raccomando, lo ricordo sempre durante i miei video quando chiedo queste cose, non scrivete mai il quantitativo di cripto root che possedete. È una cosa che è riservata e che non deve sapere nessuno o almeno comunque sia non spammatelo sui social. Se non l'avete fatta all'inizio del video vi ricordo di potervi iscrivervi al canale e mettere un bel like a questo video per aiutarmi a raggiungere le più persone possibili e di accendere la campanella comunque sia per rimanere sempre aggiornati su tutti quanti i video che usciranno da qui in avanti sul canale. Io ragazzi vi ringrazio ancora per avermi seguito fino alla fine e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. See you later. Ciao ciao!